Scommetto che hai sempre provato a risolvere il cubo di rubik ma non ci sei mai riuscito Bene, questo è il video per te perché in questo video ti spiegherò passo passo come risolvere un cubo di rubik nel modo più semplice e intuitivo possibile Prima di cominciare devo però spiegarti come funziona il cubo di rubik Infatti non devi vedere il cubo semplicemente come un insieme di colori ma devi vederlo come un insieme di pezzi Cosa vuol dire? Che ci sono nel cubo tre tipi di pezzi diversi Il primo è il centro quindi il pezzo che sta al centro ha un solo colore e questo colore determina il colore che avrà la faccia una volta che il cubo sarà risolto Inoltre i centri non cambiano mai la loro rispettiva posizione infatti il bianco sarà sempre opposto al giallo Il blu sarà sempre opposto al verde e l'arancione sarà sempre opposto al rosso E questo sarà lo schema di colori che avrà il cubo una volta risolto Il secondo tipo di pezzo è lo spigolo ovvero quello con due colori questo, questo, questo e questo e così via E il terzo tipo di pezzo sono poi gli angoli quindi quelli con tre colori attaccati per esempio questi Detto questo adesso possiamo cominciare con il vero e proprio tutorial Il primo step per risolvere il cubo di rubik è la creazione di una cosiddetta margherita Ora vi spiego cosa vuol dire e come si fa Per prima cosa dobbiamo individuare il nostro centro giallo In questo caso ce l'abbiamo qua sopra E dobbiamo attaccare al centro giallo i quattro spigoli bianchi Quindi i spigoli sono quelli con due colori, uno dei due colori deve essere bianco Per esempio questo è un pezzo con due colori, uno dei due è il bianco quindi è un pezzo che vogliamo E dobbiamo semplicemente attaccarlo in questo modo al centro giallo Dovremo attaccarne quattro in modo che si forme una specie di più E infatti sembra una margherita perché il centro è giallo e i quattro pezzi sono bianchi Quindi andiamo a cercare gli altri tre pezzi da mettere in queste posizioni Andiamo a girare il cubo affinché non troviamo un pezzo che appunto abbia soltanto due colori Di cui uno bianco e dobbiamo posizionarlo accanto al giallo Però se facciamo così vedete che non è giusto Perché il bianco si trova qua ma il bianco deve essere sopra accanto al giallo Quindi cosa facciamo? Lo spostiamo così e lo attacchiamo al giallo in questo modo A questo punto ci rimangono soltanto due pezzi da attaccare al centro giallo Un pezzo si trova qua quindi cosa facciamo? Spostiamo questa faccia e lo attacchiamo in questo modo Ce ne rimane soltanto uno quindi lo cerchiamo all'interno del cubo Ce l'abbiamo qua quindi lo mettiamo in questa posizione e lo portiamo accanto al giallo Il secondo step è invece la croce bianca Quindi dobbiamo attaccare questi quattro pezzi al centro bianco Come facciamo? Prendiamo un pezzo Quello che ci sta davanti e controlliamo qual è l'altro colore accanto al bianco In questo caso verde Dobbiamo unirlo al centro verde girando questa faccia Come vedete adesso l'abbiamo unito al centro verde E abbiamo la faccia davanti a noi Cosa facciamo? Giriamo semplicemente questa faccia due volte Quindi uno e due E ce l'abbiamo Adesso dobbiamo ripetere questa identica operazione con gli altri tre pezzi della margherita Quindi andiamo a individuare un pezzo Guardiamo che sopra abbia il bianco E l'altro colore è blu Quindi spostiamo la faccia Finché non corrisponde con il centro blu A questo punto faccia blu davanti a noi E giriamo questa faccia due volte Quindi uno, due Ripetiamo la stessa operazione con gli altri due pezzi Quindi in questo caso il pezzo è bianco e arancione Dobbiamo unirlo al centro arancione Questo no perché verde E qua abbiamo arancione, arancione Faccia davanti a noi Uno, due Ultimo pezzo Bianco e rosso Quindi andiamo a farlo corrispondere col centro rosso Faccia davanti a noi Uno E due E abbiamo così la nostra croce bianca Ma non è una semplice croce bianca Perché come vedete Tutti i pezzi corrispondono con il colore del suo centro A questo punto dobbiamo completare tutto il primo strato Quindi a questo punto dobbiamo concentrarci sugli angoli E in particolare gli angoli bianchi Quindi gli angoli che abbiano almeno tra i tre colori un bianco Dobbiamo sempre tenere la faccia bianca verso il basso Quindi la nostra croce verso il basso e sempre il centro giallo verso l'alto Questa è la posizione che dovete sempre mantenere A questo punto dovete prendere questa faccia Quindi quella con il bianco, quella sopra E individuare tra i quattro angoli che sono su questa faccia Un angolo che abbia il bianco Se ce ne sono di più individuatene soltanto uno Per esempio questo è un angolo Uno dei tre colori è il bianco Quindi un angolo che ci interessa Oltre al bianco dobbiamo guardare gli altri due colori In questo caso arancione e verde Cosa facciamo? Dobbiamo mettere l'angolo incolonnato fra i centri dei colori giusti Quindi per esempio questo è arancione e verde Invece è incolonna fra i centri rosso e verde Non va bene, quindi lo spostiamo Qua abbiamo verde, arancione Ed è incolonnato fra i centri arancione e verde Quindi è perfetto, è incolonnato fra i centri dei suoi colori A questo punto dobbiamo tenere questa colonna Sulla destra, sempre giallo verso l'alto Ed eseguire questo algoritmo Che si chiama sexy move Fa ridere però si chiama così, sexy move Su Allontana Giù Avvicina Questo è molto importante Imparatelo bene Una volta eseguito dobbiamo controllare Che il nostro pezzo sia posizionato qua sotto Quindi il riferimento sarà sempre giallo verso l'alto E bianco verso il basso Quando voi però eseguite questo algoritmo Dovete controllare se questo pezzo bianco È andato a corrispondere alla faccia bianca Quindi è andata a completare la faccia bianca E se questi colori corrispondono con gli altri colori della croce Quindi verde, verde, arancione, arancione Il pezzo è giusto Quindi dobbiamo ripetere la stessa operazione con gli altri triangoli Per formare tutto il primo strato Per esempio questo Bianco Gli altri due colori sono blu e arancione Quindi lo spostiamo Finché non è incolonnato fra i centri dei suoi colori Quindi ci siamo E nella colonna giusta Cominciamo con la nostra sexy move Quindi su Allontana Giù Avvicina Controlliamo se è posizionato bene E non è posizionato bene Perché il bianco deve corrispondere con la faccia bianca Quindi dobbiamo continuare Su Allontana Giù Avvicina Controlliamo di nuovo E ancora non è giusto Quindi di nuovo Su Allontana Giù Avvicina Controlliamo E questa volta è giusto Perché corrisponde con la faccia bianca L'arancione corrisponde con l'arancione Il blu con il blu ci siamo Continuiamo la nostra operazione cercando un angolo bianco Ed è questo Questo ha il bianco Il rosso e il blu Quindi andiamo a spostarlo Finché non corrisponde In colonna fra i centri Blu e rosso E andiamo a ripetere di nuovo la nostra sexy move Su Allontana Giù Avvicina Controlliamo Ed è già a posto Perché vedete che corrisponde Questo corrisponde Questo corrisponde Ci rimane un solo angolo Quindi andiamo a cercarlo E non è su questo strato Quindi dov'è Dov'è il nostro angolo rimanente? Il nostro angolo rimanente è qui Quindi quando un pezzo è bloccato sotto La prima cosa da fare È fare una sexy move E la facciamo A questo punto dobbiamo ricontrollare Dove si trova il pezzo E se è ancora nella posizione giusta Per esempio questo Bianco Rosso Verde È ancora fra i centri giusti Quindi possiamo continuare la nostra sexy move Su Allontana Giù Avvicina A questo punto il pezzo è nella posizione giusta E come vedete abbiamo completato tutto il nostro primo strato Quindi non solo la faccia bianca Ma anche tutti questi pezzi Sono giusti Quindi corrispondono fra loro E corrispondono anche ai centri A questo punto dobbiamo andare a completare il nostro secondo strato Quindi dobbiamo mettere questi pezzi Questi spigoli Nelle posizioni giuste Quindi cosa facciamo? Teniamo sempre il nostro cubo col centro giallo verso l'alto E dobbiamo individuare Sullo strato superiore Quindi questa faccia con il giallo Un pezzo che abbia due colori Quindi uno spigolo E uno dei due colori Non deve mai essere il giallo Quindi se uno dei due colori ha il giallo Non va bene Per esempio questo non va bene Ne cerchiamo un altro Per esempio questo va benissimo perché non ha il giallo Dobbiamo per prima cosa controllare il colore che abbiamo davanti a noi In questo caso è il verde Quindi dobbiamo far corrispondere questo colore con il centro del suo colore Quindi questo no Questo corrisponde Quindi verde verde giusto E formiamo una T Questa è una specie di T no? A questo punto dobbiamo controllare il colore che sta sopra Quindi l'altro colore è attaccato allo spigolo In questo caso arancione Quindi questo arancione ci dice dove va posizionato il pezzo Perché vedete qua va posizionato il pezzo Perché questo arancione corrisponderà con questo arancione Se invece il pezzo avesse il rosso andrebbe qua Però se noi mettiamo il pezzo qua Qua c'è un arancione che va con un rosso e non va bene Quindi il pezzo andrà in questa posizione Arancione, arancione Quindi dobbiamo utilizzare la mano destra per eseguire questo algoritmo Allontana Su Avvicina Giù Avvicina Ruotate la faccia davanti in senso anti-orario Allontana Ruotate la faccia davanti in senso orario E finito questo algoritmo Vedete che il pezzo è nella posizione corretta E va a completare il secondo strato Ora dobbiamo ripetere la stessa operazione ma con gli altri pezzi Quindi andiamo a cercare un altro pezzo che sia sullo strato superiore Quindi accanto al centro giallo Ma che non abbia il giallo fra i due colori Per esempio questo Questo è un pezzo che ha Blu e arancione Quindi dobbiamo per prima cosa controllare il colore davanti a noi E farlo corrispondere col centro arancione Per esempio questo Vediamo se va a destra o a sinistra In questo caso va a destra Perché vedete che questo è blu E va accanto al centro blu Quindi mano destra Allontana Su Avvicina Giù Avvicina Faccia davanti in senso anti-orario Allontana Faccia davanti in senso orario Cerchiamo un altro pezzo che ci interessa Qua non c'è il giallo quindi va bene Blu Centro blu Va sempre sulla destra Quindi Rosso rosso Allontana Su Avvicina Giù Avvicina Faccia davanti in senso anti-orario Allontana Faccia davanti in senso orario E ce l'abbiamo Rimane poi un ultimo pezzo Questo è il pezzo Verde Quindi andiamo a farlo corrispondere col centro verde Qua c'è il rosso quindi questa volta va a sinistra Come facciamo se il pezzo va a sinistra Dobbiamo ripetere la stessa sequenza però specchiata sulla sinistra e con la mano sinistra E ora ve la spiego quindi Allontana però con la mano sinistra quindi dall'altro verso Su a sinistra Avvicina verso sinistra Giù a sinistra Sempre avvicina verso sinistra Ruota la faccia davanti in senso orario Allontana da sinistra E ruota la faccia davanti in senso anti-orario Quindi è lo stesso identico algoritmo ma specchiato sulla sinistra Potrebbe però capitarvi una situazione del genere Nella quale c'è un pezzo Incastrato nella posizione sbagliata E anche l'altro pezzo è incastrato nella posizione sbagliata Infatti voi non troverete un pezzo sullo strato superiore che non abbia il giallo Hanno tutti il giallo Però in realtà i pezzi giusti sono nella posizione sbagliata Come facciamo in questo caso è molto semplice Prendete un pezzo giallo a caso E fate finta di doverlo inserire in questa posizione dove c'è il pezzo sbagliato Quindi diciamo fate una volta l'algoritmo ma a vuoto Per esempio allontana Su Avvicina Giù Avvicina Senso anti-orario Allontana Senso orario A questo punto vedete che il pezzo non è più incastrato nella posizione sbagliata Ma ce lo troviamo sullo strato superiore E possiamo continuare con la nostra risoluzione A questo punto abbiamo completato i nostri primi due strati E ci rimane soltanto l'ultimo strato La prima cosa da fare per completare il nostro ultimo strato È creare una croce gialla Quindi ci interessano gli spigoli Dobbiamo posizionare giusto i quattro spigoli accanto al centro giallo Per prima cosa però dobbiamo individuare quanti pezzi gialli e quali pezzi gialli sono già risolti Sulla faccia gialla Quindi per esempio in questo caso accanto al centro giallo abbiamo due pezzi gialli e sono posizionati a formare una linea Se abbiamo questa situazione dobbiamo tenere la linea in orizzontale Ed eseguire questo algoritmo Faccia davanti in senso orario A questo punto andiamo a eseguire la nostra sexy move Quindi su Allontana Giù Avvicina E faccia davanti in senso anti-orario Potremmo però trovarci in una situazione nella quale due pezzi della croce sono inseriti giusti Ma accanto quindi non più a formare una linea ma a formare una specie di L in questo modo In questo caso dobbiamo mettere la nostra L a sinistra indietro quindi esattamente in questa posizione A questo punto eseguiamo la stessa identica sequenza di mosse Quindi faccia davanti in senso orario Su Allontana Giù Avvicina Faccia davanti in senso anti-orario E come vedete ci troviamo nella situazione di prima quindi con una linea E sappiamo come risolverla perché ci basta fare la stessa identica sequenza di mosse tenendola in orizzontale Possiamo poi trovarci in una situazione nella quale zero pezzi gialli sono giusti Quindi non abbiamo neanche un pezzo giallo a completare la nostra croce Cosa facciamo? Dobbiamo semplicemente fare una volta Diciamo a vuoto Il nostro algoritmo Quindi la nostra sequenza che già sappiamo In qualsiasi posizione potete tenere la faccia E fate semplicemente Ruota in senso orario Su Allontana Giù Avvicina Ruota in senso anti-orario E come vedete abbiamo la nostra L A questo punto proprio come abbiamo fatto all'inizio Dobbiamo fare in modo che tutti i pezzi della croce gialla Corrispondano con il colore dei centri Quindi siano esattamente nel posto giusto per risolvere il cubo Cosa vuol dire? Per esempio questo pezzo è giallo Quindi corrisponde col giallo Ma non è nella posizione giusta perché il blu è accanto all'arancione Quindi non è giusto Questo pezzo non è nemmeno giusto perché abbiamo il giallo Sì accanto al giallo Ma il verde accanto al blu Questo pezzo invece è giusto Perché abbiamo il giallo accanto al giallo E il rosso accanto al centro rosso E accanto a tutti i pezzi rossi che abbiamo già risolto E questo ancora una volta è sbagliato Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ruotare la faccia superiore Finché almeno due colori non sono giusti Per esempio qua ce n'è uno giusto ma tre sbagliati Ruotiamo la faccia superiore Anche questa volta zero giusti Quindi la ruotiamo di nuovo E abbiamo ancora una volta un solo giusto Quindi la ruotiamo di nuovo A questo punto come vedete due pezzi sono giusti E due sbagliati Ed è la situazione che vogliamo I pezzi giusti dobbiamo tenerli uno sulla destra E uno indietro In questa esatta posizione Faccia gialla sempre verso l'alto E dobbiamo eseguire questo algoritmo Per posizionare giusti gli ultimi due Su Allontana Giù Allontana Su Allontana Allontana di nuovo E giù E poi di nuovo Allontana A questo punto come vedete Tutti i pezzi sono nella posizione giusta Potremmo però trovarci in un'altra situazione diversa Infatti in questo caso cerchiamo di ruotare la faccia superiore finché non corrispondono almeno due pezzi Però i due pezzi non sono più adiacenti ma sono opposti quindi in questa posizione Cosa facciamo? Dobbiamo eseguire lo stesso identico algoritmo di prima Quindi su Allontana Giù Allontana Su Allontana Allontana di nuovo E giù E allontana di nuovo A questo punto andiamo a controllare E ripetiamo la cosa che abbiamo fatto prima A questo punto la nostra croce gialla è fatta I pezzi sono tutti giusti Ci rimangono da risolvere soltanto gli ultimi quattro angoli Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare quali angoli sono nella posizione giusta e quali no Per esempio questo pezzo è nella posizione sbagliata Non importa che il pezzo sia proprio risolto Ma dobbiamo controllare che sia nella posizione giusta Per esempio questo pezzo non è risolto ma è nella posizione giusta va solo ruotato Questo pezzo invece è sbagliato Non è nella posizione giusta E questo pezzo Pure questo è sbagliato Quindi abbiamo un solo pezzo nella posizione giusta Questo pezzo giusto è quello che ci interessa e lo dobbiamo tenere davanti a sinistra Esattamente in questa posizione A questo punto dobbiamo eseguire questa sequenza di mosse Su Avvicina Su a sinistra Allontana Giù a destra Avvicina Giù a sinistra Allontana di nuovo A questo punto dovete controllare se gli angoli sono risolti oppure no In questo caso non sono risolti L'angolo giusto è rimasto giusto Però gli altri angoli Non sono per niente nella posizione corretta Quindi dobbiamo eseguire di nuovo questa sequenza di mosse Sempre tenendo quello giusto Sempre nella stessa posizione Quindi davanti a sinistra Su Avvicina Su a sinistra Allontana Giù a destra Avvicina Giù a sinistra Allontana A questo punto come vedete tutti i pezzi sono nella giusta posizione Anche se ruotati nel modo sbagliato A questo punto l'ultimo step è appunto orientare nel modo corretto gli angoli Che abbiamo posizionato nel modo corretto Quindi posizioniamo la nostra croce gialla verso il basso Abbiamo a questo punto verso l'alto il bianco tutto risolto Dobbiamo prendere come riferimento un angolo non risolto E andiamo a fare la nostra sexy move Quindi su Allontana Giù Avvicina E la ripetiamo finché l'angolo non è correttamente posizionato Sulla faccia gialla nel punto giusto Esattamente come all'inizio Quindi lo ripetiamo Su Allontana Giù Avvicina Ancora no Su Allontana Giù Avvicina Ancora no Su Allontana Giù Avvicina A questo punto è posizionato correttamente A questo punto state molto attenti Dovete spostare lo strato sotto E portare nel buco che abbiamo creato un altro pezzo non risolto E risolverlo come abbiamo fatto prima con la sexy move A questo punto due pezzi sono inseriti giusti Ce ne rimangono soltanto due Ripetiamo la stessa operazione Mi raccomando Dovete spostare soltanto lo strato sotto E tenere questi sopra Esattamente nella stessa posizione Se no il cubo lo scombinate tutto E non vi verrà mai Questo è molto importante Quindi spostate soltanto lo strato sotto Mettete qua sotto un angolo non risolto E andate a eseguire la vostra sexy move Quindi su Allontana Giù Avvicina Su Allontana Giù Avvicina Controlliamo Ed è giusto Quindi ce ne rimane uno soltanto Mi raccomando Giriamo soltanto lo strato sotto Su Allontana Giù Avvicina Controlliamo Ancora no Su Allontana Giù Avvicina Controlliamo di nuovo Non è giusto Quindi su Allontana Giù Avvicina Ancora no Di nuovo Su Allontana Giù Avvicina E ci siamo Abbiamo risolto il nostro cubo di Rubik Quindi il tutorial finisce qua Condividilo con un amico che non ha ancora risolto il cubo di Rubik E iscriviti al canale se vuoi vedere tantissimi video sui cubi di Rubik Grazie a tutti